cari amici eccoci di nuovo con una nuova rubrica che cominciamo oggi insieme a un pescatore di lunga data come roberto generali che diciamo alla mia stessa età però molta più memoria con lui andremo andremo a ripercorrere un po la pesca del passato roberto ci sei mi senti sì ti sento direi che li porti bene i 70 e roberto noi abbiamo avuto occasione di chiacchierare un pochettino un sacco di persone perché la pesca è fatta anche di ricordi di bellissimi ricordi e tante persone mi dicono ma perché non parliamo di qualcosa anche di qualche anno fa quando la pesca era in auge e tu sei un esperto di diciamo di questo eri un agonista già tanti anni fa e quindi abbiamo dato nel 1964 ecco quindi io 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 non è che non ero nato io neanche io non ero neanche nei pensieri del mio papà quindi stiamo parlando veramente di un'altra pesca e secondo me è molto carino insieme a te andare a ripercorrere cose che poi io non è che non ho vissuto non so neanche com'erano partiamo oggi abbiamo deciso di partire parlando dei galleggianti partiamo con una partiamo con una cosa è vero che i galleggianti non esistevano e si facevano in casa è verissimo perché dobbiamo pensare che l'epoca era quella del dopoguerra dopo guerra non c'erano nemmeno tanti negozi che trarrassero il materiale per la pesca quindi i pescatori quelli proprio con la p maiuscola perché essere pescatori allora era veramente qualcosa di esenzionale si costruivano in proprio i galleggianti io ricordo che il mio zio che fu quello che poi mi avvicinò alla pesca essendo di famiglia contadina usavano le penne di gallina togliendogli le piume bruciandole con un fiammifero rimaneva il corpo centrale e con due gommini con due gommini ricavati da delle guaine dei fili elettrici cose molto spartane realizzavano questi galleggianti poi venne la penna di pavone che fu una miglioria rispetto appunto alla penna di gallina e poi il tramontabile perché è tuttora validissima pedadistice come poi del resto anche la penna di pavone ma c'è questa queste prime questi primi galleggianti perché è stato se passati dalla penna di gallina la penna di pavone erano migliori erano più performanti alla penna di pavone aveva questo grande pregio che essendo appunto la dice la prova stessa era la penna del pavone molto lunga ti permetteva di realizzare dei galleggianti di varie lunghezze e di conseguenza di varie portate c'erano piume che dico dal diametro più sottile piume con il diametro più sostenuto e a lunga 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 furono errati anche dei galleggianti che riuscivano a portare 4 5 grammi e quindi era molto importante mentre la penna di gallina per quanto anche tu la prendessi lunga poteva portare massimo un 0 30 un 0 40 e quindi era molto limitativa la penna distice uguale nel senso che anche le più grandi arrivavano al massimo due grammi dove si pescava tu di dove sei roberto io sono di bologna sono nato a bologna da città da genitori bolognesi e ho cominciato a pescare sei anni nel laghezzo di giardini margherita venendo anche sorpreso dal vigile che mi rinquisì quei due o tre metri di filo di nylon che avevo perché pescava i pesci rossi e mi riportavo a casa da mettere nel vaso poi crescendo i fiumi attorno a casa come tutti con la bicicletta il savena l'orzena quando proprio volevo andare lontano lontano andavo nel lice a castenaso che 10 12 chilometri e poi il reno che è stata la palestra di tutti noi bolognesi allora intanto a marcord si dice perché a marcord che ho dato il nome a questa rubrica è di fellini che in in riminese si dice mi ricordo è uguale anche a bologna o cambia a bologna quindi è molto simile ecco quindi andiamo un po nei tuoi ricordi bellissima questa cosa dei del dei giardini margherita quando si andava però fuori come hai detto sul savena o sugli altri fiumi con che cosa si pescava cioè nel senso avevi una canna fissa quali erano le prime bolognese bolognese e quindi bolognese finché non abbiamo cominciato a fare le gare la canna fissa non sapevamo neanche cosa fosse tu non escevi pescatore con la canna bolognese che allora c'era qualche artigiano che le realizzava in canna dolce paolo ci ricordo e poi di lunghezze molto limitate massimo arrivavano a cinque metri ma poi avendo il mullinello potevi pescare a distanze più riguardevoli quindi sempre canna bolognese penna di istice e penna di povone a seconda fiume tu eri scusa un attimo i fiumi hanno l'acqua che corre però ascolta io io che sono tu mi devi scusare ma io sono sono i capelli bianchi ma ma sono c'è in fiume si pesca con il galleggiante fatto a pallina per tenere la corrente cioè come fai a pescare nel fiume con una penna che è lunga come facevate a pescare è la penna di provone portando rispetto al suo volume una dischetta piombatura accompagnavi la passata in leggerissima trattenuta lasciando già allora si lasciava scorrere il filo uscire dalla bovina il mullinello e questa leggera trattenuta ti permetteva appunto di pescare ottimamente va tornando ai galleggianti che poi anche perché se no vado vado off topic come dicono vado fuori argomento perché dopo lo tratteremo più avanti e è infinito l'argomento stiamo stiamo sui galleggianti tu hai lì qualcosa dei primi galleggianti o sei già o quello che hai preparato che ti avevo chiesto di preparare qualche galleggianti qui sotto mano o quelli da arborella allora ho poche nulla è tutta roba degli anni 60 guarda prima che partiamo adesso in diretta così senza ti faccio vedere una cosa stai lì solo un secondo arrivo subito profitto anch'io per prendere le penne di pavone eccomi 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 roberto prendere le penne di pavone guarda io invece ti stupisco con effetti speciali guarda se la riconosci che cos'ho qua aspetta è una penna districe questa è una penna districe che ho trovato camminando proprio ieri qua nel bosco esatto l'ho tenuta perché mi ricordo i galleggianti che aveva il mio nonno quindi qua si mettevano eccola bravissimo vedi si mettevano due gommini uno sopra lo sotto si colorava un pochettino questo è sotto e questo è sopra fantastico è che questa non aveva però anche qua per trattenere era difficilissimo questa era la classica penna da acqua molto lenta o ferma e da caverani con la piombatura molto scalata scendeva lentamente e mentre scendeva partiva ecco che pesci che pesci si prendevano e immagino che le brem non esistessero ai tempi non so se c'erano già i calassi o se c'era no 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 nei nostri torrenti che frequentavo io in particolar modo il santerno il savena i torrenti qui attorno a bologna credano barbo c'erano tante stregge stregge è quella che in italiano si chiama l'asca e le strisce quelle che chiamano strisce e erano dei branchi enormi in fondo alle pianine alle razzarole e vedevi in questa stagione proprio in questi giorni era tutto un brillare di queste pancia argente e per noi era la pesca di ripiego cioè partire da casa per andare a barbie che vede lì poi o vari motivi non imbroccavi la giornata giusta beh mi metto a fare la streggia era una cosa che adesso la pagheresti a peso d'oro poterla fare allora per noi era la pesca di ripiego anche perché non ce ne sono più di questi pesci non ce ne sono più qui nel mio torrente in savana ce ne sono qualcuno qualcuna la prendi ancora che è uno spettacolo questo pesciolino lo guardi lo fotografi lo rivuti giù nel sant'anno ciò che in alcune posizioni ce ne sono ancora di quelle belle panciute di una volta ma quante sono grosso le strisce ma le strisce diciamo dipende dal fiume quelle del savana erano comunque anche da tutte sempre più piccole che quelle del reno o che quelle del sant'anno nel sant'anno e in particolare nel lamone ricordo da brisichelli in su le strisce più grandi erano lì arrivavano un netto e mezzo e forse qualcosa di più strisce perché hanno una striscia laterale io penso che più che per quello no non aveva una striscia laterale avevano le pinne e le labbra rosse in particolare ai momenti di frega strisce perché forse facevano un lampo di come un piccolo fulmine nell'acqua una strisciata di argento io penso che derivi da quello il nome un pesce moderno un vago gardon potrebbe essere una somiglia che è molto più affusolata il gardon un po più panciuto e con la bocca verso il basso la streggia e allora i galleggianti hai detto cioè quello in penna districe che sono i primi che abbiamo usato e a quei tempi che non essere che scusa che potrebbero essere anche i minuti e piccolissimi e quelli li venivano utilizzati per quando c'era nelle razzaroline dove c'era poca acqua pescavi anche in 30 40 cm d'acqua perché loro in frega andavano in queste posizioni e ti voleva un galleggiantino che pescasse poco e con un pallino massimo due dell'otto che allora erano i più piccoli e a meno del 20 pesca un raparino un bigliettino puntato riuscivi a fregare invece quando volevi insidiare i barbi dove la corrente andava più forte la penna di pavone era l'ideale potevi fare con un galleggiantino anche piccolo portava due grammi e riuscivi a trattenere bene perché con un due grammi anche nei nostri torrenti dove l'acqua corre forte corre abbastanza riesci a fregarli stiamo parlando degli anni 70 beh stiamo parlando anche un po prima io ti dico ho cominciato a far le gare nel 64 col creare dei travieri perché ero diventato un dipendente nella tendenza tra sporti prima andavo con la lambretta lo scooter per mio conto erano gli anni 60 sì perché avevo 16 anni avevo dalla lambretta sì quindi anni 60 poi poi sei passato anche hai detto andavi col creare la tm sei passato anche all'agonismo alle gare e era la pesca dell'arborella che mi raccontano lì si apre un capitolo meraviglioso per tutti i pescatori di quell'epoca scusate facendo le gare col creale veni a contatto appunto con i pescatori più vecchi di me più grandi di me e che mi fecero imparare questa tecnica si andava a marmorta nel canale che passa da marmorta vicino molinella e lì c'era la borella go go e gli anziani mi dicevano cino datimo da fare bambino datimo da fare e pedala a me sinceramente abituato a pescare barbi che avete nelle stregge di perdere dei pomeriggi a frustare con un canino di due metri nell'acqua a prendere dei pesciolini così non piaceva poi pian piano facendo le gare mi accorgi che è una pesca molto bella molto 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 tecnica non ho paura a dire che secondo me di tutte le pesche io le ho fatte tutte è la più tecnica è un mondo dove tanti tanti particolari dalla canna al galeggiante alla linea all'ammino alla piombatura ai movimenti che devi fare devono essere talmente sincronizzati che portano al risultato diversamente per 10 grammi perdi senti ma è vero che indipendentemente dal picchetto quando cominciava la gara prima ancora che si diceva essere i picchetti chi conosceva i pescatori diceva vince tizio con tot pesci arriva secondo caio con 50 pesci meno terzo sempronio con 60 pesci meno e ci azzecavano quasi sempre sicuramente era così sicuramente era così quando andavi a leggere il tuo picchetto già vedevi la classifica almeno per i primi tre quattro posti e le volte ci mettevo anche il mio nome che i tre o quattro perché ripeto tutti la facevano con la pesca lì ma come tutte le pesche chi la faceva nel modo dovuto col ritmo dovuto perché a me gli anziani hanno insegnato insegnarono non importava andare in fretta perché poi andando in fretta ne sbagliavi di più eri meno preciso l'importante era venire su pieno e questo movimento che tu devi fare simultaneamente alla pallina di pastura raccogliere l'arbarella che ti doveva arrivare in quella posizione in modo che con la mano sinistra tu lo potevi stringere la testina fra il pollice e l'indice e con un piccolo tiro era dalla mata pesce dentro la massa dentro il bordotto allora purtroppo succedevano e il bigattino rimaneva integro e ripartire e questo sei sette no sette no sei cinque quattro volte al minuto perché ti portavano a gare con 1200 pesci io non ho mai fatto i toscani nell'arno con canini da un metro arrivavano anche a 1500 roba che per noi bolognesi era impensabile perché non eravamo abituati però le 1200 e a scendere diciamo che la media in un canale pescoso era le 900 a borrelle se volevi arrivare ma hai detto pesci morta però quella volta il mio nonno mi raccontava si mangiavano i pesci poi si portavano a casa non era erano un po di poi mio nonno lombardo loro non erano gente di mare non avevano altro pesce se non quello che portavano a casa dai fiumi dai laghi certo io ricordo delle gite sociali col pullman si andava con il pullman allora nel mincio peschiera e quando vedi per la prima volta peschiera rimani sbalordito al di là del dell'acqua della qualità che quella potete per immaginare 50 anni fa come poteva essere era che tutte queste alghe dietro riva erano coperte letteralmente da branchi di migliaia 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 di arborelli erano mediamente di tre grammi c'era solo un periodo del primavera che uscivano le le avole dal lago del resto erano tutte arborelline a tre grammi tre quattro grammi e questo è quel giorno lì che facciamo la gita sociale le tenemmo e i colleghi che si erano dedicati alla cucina le friggiamo sul posto sul fiume fu una gran festa erano buonissime fra l'altro ma allora bellissimo però continuo è colpa mia perché sono affascinato da tutto quello che mi racconti devo tornare devo tornare sul pezzo che sono galleggiati abbiamo dato un nome è colpa mia io io starei veramente dopo tanto faremo anche le altre puntate però veramente mi piace tantissimo sentire perché è un sapore della pesca che mi ricorda ai miei inizi ho iniziato negli anni 80 io sono un 78 quindi ho iniziato negli anni 80 con il mio nonno e mio papà che mi portavano le prime volte mi ricordo che la pesca aveva veramente un un sapore bello e io tornavo a casa avevo dei bellissimi ricordi o dei ricordi come dire con un sapore piacevole quindi anche mi stai riportando un po indietro nel tempo quindi questo è colpa mia che mi sto lasciando trascinare torniamo è la colpa di tutti quando sentono raccontare queste cose anch'io quando sentivo cantare ti appassionano e non so perché ho tutti i bei ricordi mi viene il sole quelle quei ricordi sembrano quelle foto sai che sono un po con quei colori rossicci un po dei ricordi così delle della mia infanzia come se fosse una foto quindi mi stai facendo tornare indietro e tu per me sei un regasole ti ringrazio io ho cominciato negli anni 80 si 85 l'epoca della canna fissa che si arrivò fino alle 11 12 metri di canna fisso al carbonio e cominciava era già cominciato l'epoca del galleggiante all'inglese a ostellato e il tempo dei carassi l'alborella a ostellato non era più vincente ai nostri tempi si vinceva con 6 kg di arborella e facevi circa 600 700 arborelle erano arborelle grosse da 10 grammi mediamente e nelle gare box in quattro far tutti l'arborella facevi 25 26 kg di arborella e quelli che i carassi non ci arrivavano salvo casi eccezionali e quindi tu negli anni 80 sei arrivato che c'era già lì cominciava l'epoca dell'inglese ma io negli anni 80 non è che andavo a pescare ogni tanto il mio papà mi portava raramente perché mio papà andava a pescare il sabato e io tornavo da scuola e mi preparavo subito per andare a pescare con lui allora tante volte siccome un bambino dietro pescatore è una rottura di scatole mio babbo col lavoro non non aveva tempo c'è di starmi dietro poi la domenica era da dedicare alla famiglia e allora spesso e volentieri di nascosto perché mi veniva a prendere a scuola mi portava a casa e di nascosto fuggiva io mi ricordo i pianti con la mamma perché non mi aveva portato ogni tanto ogni tanto mi portava e a parte qualcosa sono anche caduto nel fiume nel ticino e ladda una volta una volta mi ricordo che mi aveva detto di non entrare io entrai lo stesso disubbidendo scivolai e tutto bagnato lui mi mise nudo come un verme sulla sponda del fiume coi vestiti sulla pianta ad asciugare per punizioni una vergogna avevo mi ricordo perché ero caduto dentro il fiume però allora torniamo sui galleggianti allora pesca dell'arborella ne hai tantissimi partiamo dai primi in ordine di tempo allora innanzitutto i galleggianti d'arborella si dividono in due famiglie grandi macro famiglie quelli affusolati e quelli invece a goccia d'acqua il galleggianti in assoluto anche per questi vale la regola che ci avevamo detti prima che era quella del far da te i negozi cominciavano a rifornirsi ma che ci fossero galleggianti che si facessero in pieno le esigenze dei pescatori non c'erano posso dire senza tema di smentita che in italia il primo galleggianti in assoluto per la pesca d'arborella che si trovò in commercio perché importato dalla francia dai pescatori francesi era il galleggianti chiamato steel che è questo è un bastoncino un bastoncino scuro ricoperto di plastica sotto l'antenna a un gommino ti permette di fissarlo e sotto nella deriva uguale questo è il più piccolo e poi a salire fino a una misura di 10 12 centimetri che materiale che materiale è plastica ma secondo me dentro io non l'ho rotta secondo me dentro è plastica è bassa o comunque legno duro è ricoperto di da una pellicola di plastica eravamo negli anni 60 però c'era da questo tipo di prodotto e questo prima le prime società i primi alboristi qui da noi la casa di chiese l'arenza rastignano che dominavano con la pesca della borale usavano subito dopo i romagnoli se ero in campo ricordo preda che è un negozio di pesca fece i suoi che sono una sorta di penne districe di bassa molto molto appuntiti in deriva molto puntiti sulla sulla punta e di varie misure il piccolo e questo è uno dei più grandi non proprio il più grande era questo grosso modo da 3 4 del 7 e i più grandi un 6 del 12 6 del 13 non esagerate cosa avevano di abbiamo visto le due grandi famiglie quelli affusolati catturavano l'arborella mentre il mentre la lenza andava in pesca che partivano lateralmente o davano una piccola scartata e tu ferravi avevi già l'arborella quindi in un certo qual modo anticipavi quella che sarebbe stata la boccata in un altro tipo di galleggiante così avevano anche il pregio notevole poi giocando con gli stili o i pallini della piombatura a più o meno aperti normalmente si faceva un bulk attaccato all'asolina dove legava il terminale di 8 cm però alle volte specialmente a ostellato aprendo questa piombatura e stendendo il braccio e stendendo la lenza mentre calava partiva ed era l'arborella quella quella da 15 grammi allora un galleggiante di un altro tipo magari a goccia d'acqua che andava in pesca subito ti faceva arrivare dove c'erano il branco delle piccole venivi su a pieno ma erano piccole invece con quel tipo di galleggiante li raccoglievi e venivano che ti arrivavano in mano delle delle arborelle di questo tipo questo era il segreto allora per vincere lo stellato l'altra famiglia invece quello delle gocce d'acqua anche lì si cominciò con quelli fatti da te infatti in casa con la valsa con il black and decker o il piccolo tornietto fino passando per varie soluzioni fino che arriviamo a un caposaldo di questa pesca che tutti conosceranno i garisti più anziani e il famoso diavoli diavolino perché era stato inventato dai da dei pescatori della diavoli di torino che fecero questo giglio giglio che è un galleggiante con la stina la deriva di acciaio brillato con l'anellina e nel colarino su un passantino infilavi il filo facevi due giri attorno alla deriva e uscivi e lui faceva quell'attrito sufficiente per poterlo mantenere nella posizione che mettevi e questo era un micidiale quando c'era l'acqua mossa quando tirava molto vento io poi facevo una modifica che non c'era c'è veniva fissato solo con quei due giri non c'era un gommino per fermarlo no solo nel collarino nel collarino c'era il passantino e si poi scendevi sotto per passare nel bucanino che c'era in fondo alla deriva prima facevi due giri attorno e andavi dentro tu capisci che non lo fare lo scorso e faceva quel minimo di attrito che stava nella posizione che lo mettevi ma era prodotto industrialmente c'è industrialmente è una parola grossa no no dopo questo fu prodotto per per vendere industriamente io lo modificavo in alcune situazioni questo è il più piccolo mettevo uno stile non so se si riesce ok si vede mettevo uno stile in fondo prima dell'anellino in maniera che il paricentro del gregiante si abbassava ancora di più e se come toccava l'acqua era già dritto e potevi vedere quella mangiatina che poteva essere incalare la potevi vedere subito e anche quello ti permetteva di prendere 10 ore alle più che il tuo vicino ma sì perché mi hai parlato dello stile perché si usavano gli adesso sono passati di moda credo che non ci sono neanche più però mi ricordo che il mio babbo aveva c'erano dei piombi allungati fatti un po più lunghini a cilindretto con con la scanel natura andavano vanno dalla misura del 7 alla misura del 20 ha il cassetto qui che ne faccio vedere una la misura del 7 fino al 20 che è un quarto di grammo i 20 e il 7 sono piccolissimi sono paragonabili a dei pallini del 13 del 14 e con quelli realizzavi le montature le tarature dei gregianti e tornando ai gregianti andando avanti poi ci siamo modernizzati allora tornando ai gregianti nell'arborelle c'era in tutti i fiumi però un conto era pescare l'arborella nel canalino dietro casa marmorta o nella fiuma magari con 15 cm di profondità e un conto era pescare l'arborelle del mincio peschiera in po in brenta perché allora si facevano gare in tantissimi campi di gara e di conseguenza i gallegianti dovevano seguire il fiume dove andare pescare questo che ho in mano è un galleggiante famoso che fece la storia delle avole a peschiera è un veronese chiamavamo così perché realizzato dai dagli amici pescatori di verona che nel mincio quando c'erano le avole non c'è la storia loro dominavano e poi pian piano che noi a bolognesi ci ci specializziamo ma loro erano avanti e altri galleggianti sempre di quell'epoca cominciò l'industria gli ignesti anche questi sempre per peschiera trabucco trabucco fece un bel galleggiante sempre sul sulla falsa riga dei test ma con perché io mi ricordo che dalle mie parti parlano sempre di sto test che poi lo chiamavano tex come se fosse tex wheeler il tex ma che il tex che cos'è il tex è quello sono questi sono di bassa questi sono originali di comprare io nel 69 quando andavo a montrò fare una gara internazionale di pesca ok perché non è tex ma è tesse che è francese il pescatore che li realizzò che li realizzava e sono di bassa testa mozzata tarati a pari appena un pesce passava lì vicino lui avvertiva subito e quindi un cilindro molto sottile e molto sensibile importato anche quello dalla scuola transalpina belga e soprattutto francese abbiamo visto diciamo quasi tutti i galleggianti li fatti vedere tutti ma ce n'è un altro che mi piace particolarmente che mi dia di tantissime soddisfazioni che è questo è una pallina di polistirolo il gambo e l'antenna sono realizzata e passante nello stesso materiale che è un acciaio filo sottilissimo e portava abbastanza perché questo il corpo è di polistirolo e con una deriva così lunga anche qui potevo mettere uno stile in fondo e mi me lo faceva stare in pesca bene questo serviva quando c'era la bufera quando c'era la bufera il vento che ti portava via anche la canna di mano fa la borrella era verità dura con questo galleggiante con un'antenna così sottile di acciaio e quindi molto sensibile perché d'acciaio rimane anche molto sensibile andava giù subito che non portava ma soprattutto era talmente sottile che il vento influiva poco e quando l'acqua era tutto un mare mosso riuscivi a vedere tra un'ondina e l'altra vedevi non vedevi più l'antenna tirava e c'era la borrella attaccata con questo ricordo che in un giorno terribile al lago maggiore in una gara del trofeo eccellenza feci il primo con pochi arborelli 100 150 arborelli ricordo poche ma gli altri ne presero 10 15 perché avevo questo tipo di credente sono molto affezionato e anche questo lo trovo in francia dopo le importo milo la lago maggiore mi hai parlato di lago maggiore io mi ricordo da bambino che andavo spesso sul ceresio andavo sul lago di lecco lago di como lì era una pesca dell'arborella c'era ma era un po diversa si aveva con canne lunghe molto pesanti però eh sì beh ogni luogo l'ho premesso prima ogni fiume ogni luogo aveva le sue caratteristiche la pesca dell'arborella un altro galleggiante di cui sono innamorato e fu il primo portale in italia sempre venendo a casa da quelle gare a montrò e questo il guinef il guinef in varie misure questa è la più piccola che è un 4 per 8 4 per 9 fino a salire fino a un gramma e mezzo i francesi lo chiamavano antivento perché era concepito da pescare tutto annegato fuori solo la stena sempre sottilissima perché da loro tira sempre il vento e anche questo da arborella in certe condizioni era micidiale tanto feci tanto brigai che cominci milo a importarli e dopo li commercializzò li commercializzò anche il milo per il mercato italiano e abbiamo visto galleggianti da arborelle no perché alla fine la pesca era quella era arborella forse in che anni si è cominciato a pescare i pesci più più grossi anche in gara ma ti dirò allora dagli anni sessanta il pesce grosso c'era sempre ma cosa succedeva che un conto era andare a provare e facevi catinelli di carassi un conto era 250 300 400 600 900 pescatori ai nostri tempi c'erano gare da 900 c'è una cosa impensabile a giorno d'oggi la gara non si stava a 10 metri no no si stava in 10 metri ma il per 900 era poi il po prendevi dalle foci fino su a taglio di po e quindi è anche in altri rami del po però le gare anche ostellato da 300 400 persone ci facevano si partiva dalla trava e si arrivava giù sotto i cavalli e per cui è che c'erano i pescatori adesso non ci sono più tanti garisti e allora il pesce sentiva molto la pressione della gara e allora l'alborella ti dava una garanzia che se tu la facevi con i crismi fatta bene non avevi tanti incidenti che poteva capitare di dover cambiare uno più ami se sapevi innescare bene il raparino se facevi tutto come dio comanda se eri sfortunato ma sfortunato facevi il secondo o il terzo e quindi una pesca da squadra perché se tutti i quattro si faceva quella cosa lì due facevano il primo lo sfigato faceva quattro e quell'altro faceva tre per cui con quei punti se non vincevi la gara arrivavi poi con gli amici romagnoli della pesca sport fuori lì che erano diventati quelli da battere a ostellato alle volte non bastava fare quattro primi quattro primi noi quattro primi loro loro magari vincevano per il peso per dire che è una pesca quando ho cominciato questa chiacchierata ho detto la pesca più tecnica sicuramente in assoluto perché per queste cose perché il picchietto non c'entrava più niente falvo casi eccezionali insomma in un canale tutti in riga il bravo vinceva e i suoi amici che erano bravi come noi che portavano la vittoria del trofeo bello bellissimo roberto grazie mille per queste informazioni noi comunque andiamo avanti perché adesso ci hai portato in questa strada che ci porta al passato e abbiamo visto solo una piccola parte di quello che era la pesca poi mi piacerebbe anche approfondire tanti argomenti le attrezzature abbiamo parlato fuori fuori registrazione mi hai raccontato di gare dove andavate in quattro con una macchina cosa che oggi al turano da bologna al turano non si pensa neanche quindi no 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 dobbiamo dobbiamo assolutamente assolutamente approfondire questo argomento adesso chiudiamo questa puntata dei galleggianti ti ringrazio davvero tanto eh ci hai detto un sacco di cose chissà quanti pescatori con qualche anno più di me che ci saranno ricordati di queste cose straordinarie che ci hai fatto vedere io ringrazio voi per evitato questa opportunità di risfogliare il libro dei ricordi vediamo ci sono tante altre pagine vedremo grazie mille roberto a presto ciao